Altra mattinata difficile per il traffico nella zona delle Fiere, viabilità in tilt sulla 1, in prossimità del casello di Parma, 6 km di coda per chi arrivava da Bologna, altrettanti sull'altra corsia, in gran parte auto dirette al salone Mexpe, problemi anche sulla complanare, ma non solo. C'è stato un incidente poi in strada Baganzola, con un'auto finita in un fossato, il conducente incastrato tra le lamire e liberato dai visi del fuoco. Fortunatamente l'automobilista non è grave, il sinistro ha però bloccato il traffico anche su quest'arteria. Si consiglia di evitare quindi in queste ore la zona fiera, anche nel pomeriggio in corrispondenza della chiusura di Mexpe, code anche tra San Prospero e Ponte su Lenza per lavori di asfaltatura e circolazione a senso alternato. I problemi al traffico dimostrano come Mexpe comunque sia una fiera che sta portando tantissimi visitatori, tantissimi operatori a Parma, si parla dell'industria 4.0, l'innovazione tecnologica. È stato un tema che è stato analizzato anche in un convegno che si è tenuto questa mattina a Palazzo Soragna, un convegno organizzato dall'Unione Parmese degli Industriali. Per mantenersi competitivi sui mercati è imprescindibile ormai essere all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e digitale, potendo contare su un'impresa 4.0. Di questi temi si è parlato in un convegno UPI a Palazzo Soragna, in cui è stato fotografato anche lo stato dell'arte delle nostre aziende. La rivoluzione digitale è un continuo divenire e la tecnologia, da questo punto di vista, particolarmente sui temi sfiorati e trattati nel convegno di oggi, 4.0 sono temi che hanno un'evoluzione esponenziale. Quindi parlare di gap è difficile, è una continua rincorsa, però è chiaro che quello che è il primo obiettivo di questa rivoluzione è quello di cambiare l'impostazione culturale delle aziende. Marco Occhi, come si crea un'impresa competitiva digitale? Si crea cercando di raccogliere delle opportunità da un punto di vista della tecnologia che offre oggigiorno il mercato e soprattutto cercando di rispondere a delle esigenze precise che vengono dal mercato e quindi andando ad individuare delle problematiche a cui dare delle risposte il più possibile tecnologiche e mirate. Oggi si parla molto di digitalizzazione, in sostanza le imprese sono a fronte di una rivoluzione nuova chiamata quarta rivoluzione industriale. Vuol dire che noi imprenditori dobbiamo aprirsi e capire che ormai le fabbriche si devono trasformare, gli uffici devono evolversi e quindi dobbiamo digitalizzare le aziende utilizzando competenze nuove, menti capaci e professionali che possono aiutare l'imprenditore a fare questa trasformazione.